Marzo ancora una volta ci ritroviamo a un passo dal fermo dell'autotrasporto che significherebbe gravi problemi anche per tutti i cittadini perché vuol dire poi rischia di non arrivare per esempio la marcia nei supermercati. Perché si è arrivati a questo? Che sta succedendo? Allora sta succedendo che il governo ci sta praticamente avrebbe deciso di togliere agli Euro 3 e Euro 4 il rientro delle accise del gasolio. Noi praticamente abbiamo una tassa che paghiamo la pompa sul gasolio che ogni tre mesi in base ai litri che abbiamo fatto abbiamo dei ritorni economici. Poca roba, un'agevolazione, poca roba però oggi come oggi con la crisi del settore le tariffe che sono inflazionate è meglio che niente. Poi abbiamo più volte chiesto un incontro alla ministra De Micheli e questa qua ha sempre fatto conto che noi non c'eravamo. Alla fine abbiamo aperto il discorso con un probabile fermo. C'è una dichiarazione di fermo a cui non abbiamo messo ancora la data però c'è questa dichiarazione di fermo. Il 14 di novembre c'è l'incontro con il governo e speriamo che si ravvedano un attimo che capiscono la situazione. La vedo dura però speriamo per tutti che capiscono la situazione perché noi abbiamo una concorrenza sleale da parte dei paesi dell'est che fa paura. Stiamo chiedendo delle tariffe, i pagamenti a 30 giorni che fra l'altro il pagamento a 30 giorni è una legge europea. Speriamo che in qualche modo si riesca a trovare un punto d'incontro anche perché attualmente la maggior parte delle aziende di trasporto non hanno più utile.